Enoch ha raccontato la vostra storia, no? E lui ha detto che tu per lui sei un fratello, un amico, che adesso non vuole più andare via da te proprio. Chi è Enoch per te invece? Ti giro la domanda. Enoch è nelle due famiglie che io ho, ho molti fratelli senza togliere niente agli altri, ma è il ragazzo che è cresciuto con me, è il mio amico, è il mio sangue, è il mio fratello, è il guai chi me lo tocca, è il guai chi me lo sfiora, è il guai chi rompe le scatole. Comunque, eh no, ti saluta la mamma, ti saluta papà, ti saluta Abigail, Angel, Prince, ti vogliono bene, dicono che stai facendo bene, te lo dico anch'io. Eh, riguardo a quello che è successo, che mi hanno raccontato, eh, veramente mi hai scioccato, sei stato un grande signora, bravo, perché io probabilmente non avrei reagito così, ma sei stato un signore e mi ha dato un insegnamento di vita anche a me, veramente Enoch, bravo. Applausi